ma ciò che lasciando intero il biasimo scema la maraviglia di quella sua condotta ciò che fa nascere un'altra e più forte maraviglia è la condotta della popolazione medesima di quella voglio dire che non tocca ancora dal contagio aveva tanta ragione di temerlo all'arrivo di quelle nuove dei paesi che ne erano così malamente imbrattati di paesi che formavano intorno alla città quasi un semicircolo in alcuni punti distante da essa non più di 18 o 20 miglia chi non crederebbe che vi si suscitasse un movimento generale un desiderio di precauzioni bene o malintese almeno una sterile inquietudine eppure se in qualche cosa le memorie di quel tempo vanno d'accordo è nell'attestare che non ne fu nulla la penuria dell'anno antecedente le angherie della soldatesca le afflizioni d'animo parvero più che bastanti a rendere ragione della mortalità sulle piazze, nelle botteghe, nelle case chi buttasse là una parola del pericolo chi motivasse peste veniva accolto con beffe incredule con disprezzo iracondo la medesima miscredenza la medesima per dir meglio cecità e fissazione prevaleva nel senato nel consiglio dei decurioni in ogni magistrato trovo che il cardinal federigo appena si riseppero i primi casi di mal contagioso prescrisse con lettera pastorale ai parroci tra le altre cose che ammonissero più e più volte i popoli dell'importanza e dell'obbligo stretto di rivelare ogni simile accidente e di consegnarle robe infette o sospette e anche questa può essere contata tra le sue lodevoli singolarità il tribunale della sanità chiedeva implorava cooperazione ma ne otteneva poco o niente e nel tribunale stesso la premura era ben lontana da eguagliare l'urgenza erano come afferma più volte il tadino e come appare ancora meglio da tutto il contesto della sua relazione i due fisici che per fase della gravità dell'imminenza del pericolo stimolavano quel corpo il quale aveva poi a stimolare gli altri abbiamo già veduto come al primo annunzio della peste andasse freddo nell'operare anzi nell'informarsi ecco ora un altro fatto di lentezza non men portentosa se però non era forzata per ostacoli frapposti da magistrati superiori quella grida per le bullette risoluta il 30 d'ottobre non fu stesa che il D23 del mese seguente non fu pubblicata che il 29 la peste era già entrata in Milano il tadino e il ripamonti vogliono notare il nome di chi ce la portò per primo e altre circostanze della persona e del caso e infatti nell'osservare i principi di una vasta mortalità in cui le vittime nonché essere distinte per nome appena si potranno indicare all'incirca per il numero delle migliaia nasce una non so quale curiosità di conoscere quei primi e pochi nomi che poteranno essere notati e conservati questa specie di distinzione la precedenza nell'esterminio perché facciano trovare in essi e nelle particolarità peraltro più indifferenti qualche cosa di fatale e di memorabile l'uno e l'altro storico dicono che fu un soldato italiano al servizio di Spagna nel resto non sono ben d'accordo neppure sul nome sia come sia entrò questo fante sventurato e portatore di sventura con un gran fagotto di vesti comprate o rubate a soldati alemanni andò a fermarsi in una casa di suoi parenti nel borgo di Porta Orientale vicino ai Capuccini appena arrivato San Malò fu portato all'ospedale dove un bubone che gli si scoprì sotto una scella mise chi lo curava in sospetto di ciò che era infatti il quarto giorno morì il tribunale della sanità fece segregare e sequestrare in casa la di lui famiglia i suoi vestiti e il letto in cui era stato all'ospedale furono bruciati due serventi che l'avevano avuto in cura e un buon frate che l'aveva assistito caddero anch'essi ammalati in pochi giorni tutte e tre di peste il dubbio che in quel luogo si era avuto fin da principio per la natura del male e le caffelle usate in conseguenza fecero sì che il contagio non vi si propagasse di più ma il soldato ne aveva lasciato di fuori un seminio che non tardò a germogliare il primo a cui si attaccò fu il padrone della casa dove quello aveva alloggiato un Carlo Colonna sonatore di Liuto allora tutti i pigionari di quella casa furono d'ordine della sanità condotti al lazzaretto dove la più parte si ammalarono alcuni morirono dopo poco tempo di manifesto contagio nella città quello che già c'era stato disseminato da costoro da loro panni da loro mobili trafugati da parenti da persone di servizio alle ricerche al fuoco prescritto dal tribunale e per di più quello che c'entrava di nuovo per l'imperfezione degli editti per la trascuranza nell'eseguirli e per la destrezza nell'eluderli andò covando e serpendo lentamente tutto il restante dell'anno e nei primi mesi del susseguente 1630 di quando in quando ora in questo ora in quel quartiere a qualche d'uno s'attaccava qualche d'uno ne moriva e la radezza stessa dei casi allontanava il sospetto della verità confermava sempre più il pubblico in quella stupida e micidiale fiducia che non ci fosse peste né ci fosse stata neppure un momento molti medici ancora facendo eco alla voce del popolo era anche in questo caso voce di dio derideva gli auguri sinistri gli avvertimenti minacciosi dei pochi e avevano pronti nomi di malattie comuni per qualificare ogni caso di peste che fossero chiamati a curare con qualunque sintomo con qualunque segno fosse comparso gli avvisi di questi accidenti quando pur pervenivano alla sanità ci pervenivano tardi per lo più e incerti il terrore della contumacia del lazzaretto aguzzava tutti gli ingegni non si denunziava gli ammalati si corrompevano i becchini e i loro sopraintendenti da subalterni del tribunale stesso deputati da esso a visitare i cadaveri sebbero con denari falsi attestati siccome però a ogni scoperta che gli riuscisse fare il tribunale ordinava di bruciar robe metteva in sequestro case mandava famiglie nel lazzaretto così è facile argomentare quanta dovesse essere contro di esso l'ira e la mormorazione del pubblico della nobiltà degli mercanti e della plebe dice il tadino persuasi come erano tutti che fossero vessazioni senza motivo e senza costrutto l'odio principale cadeva su due medici il suddetto tadino e senatore settala figlio del protofisico a tal segno che ormai non potevano attraversare le piazze senza essere assaliti da parolacce quando non erano sassi e certo fu singolare e merita che ne sia fatta memoria la condizione in cui per qualche mese si trovaron quegli uomini di veder venire avanti un orribile flagello di affaticarsi in ogni maniera a stornarlo di incontrare ostacoli dove cercavano aiuto ed essere insieme bersaglio delle grida avere il nome di nemici della patria propatri ostibus dice Ripamonti di quell'odio ne toccavano una parte anche gli altri medici che convinti come loro nella realtà del contagio suggerivano precauzioni cercavano di comunicare a tutti la loro dolorosa certezza i più discreti ritacciavano di credulità ed ostinazione per tutti gli altri era manifesta impostura cabala ordita per far bottega sul pubblico spavento per la loro Grazie a tutti